Il gruppo francese petrolifero Total ha avuto il via libera di entrambi i consigli di amministrazione per l'acquisizione della società danese MERS Coil. Il valore complessivo dell'operazione, che dovrebbe chiudersi nel primo trimestre del 2018, è di 7,45 miliardi di dollari, dei quali 4,95 in azioni Total e 2,5 in assunzione di debiti della compagnia con sede a Copenhagen. L'effetto sul colosso transalpino sarà un immediato aumento di riserve e produzione dovuta ai molti pozzi attivi della MERSC nel mare del nord.